Siamo arrivati a Napoli con il treno da Roma. Mi è giunta una notizia sconcertante sotto ogni punto di vista. I colleghi del Senato, ma tante agenzie stanno già diffondendo a macchia d'olio questo messaggio al Paese. Sono stati ripristinati i vitalizi al Senato attraverso una delibera della Commissione che esamina i ricorsi sotto ogni punto di vista che è stata nominata dalla Casellati. Lo hanno fatto di notte, di nascosto all'oscuro di tutto il popolo italiano. Che cosa hanno fatto? Hanno ripristinato i vitalizi per la casta e questo è assolutamente inaccettabile. Non schiaffa la miseria in un momento del genere in cui il popolo dell'anno sta soffrendo, in cui tante famiglie hanno tantissimi problemi. Ma ci rendiamo conto che la classe politica in questo momento ha delle responsabilità ancora più grandi e questo è sicuramente inaccettabile, un atto ignobile. Credetemi, sono davvero nervoso sotto ogni punto di vista. Non è possibile che la politica in questo momento pensi a tenersi stretto il malloppo. Alla Camera abbiamo assolutamente bloccato tutte queste iniziative e ricordate, mesi fa quando io sono stato addirittura diffidato da tutta la vecchia classe politica che ci ha fatto un esposto in cui chiedeva il ripristino dei vitalizi perché li avevamo tagliati alla Camera dei Deputati. Al Senato, poche ore fa, di notte, di nascosto come dei ladri, hanno ripristinato questo odioso privilegio. Noi stiamo combattendo sotto ogni punto di vista per eliminare tutti i privilegi di cui la casta si è appropriata in questi anni e vi assicuro che non molleremo. Questa è una commissione che però non rispecchia la maggioranza parlamentare e non rispecchia la volontà del popolo italiano. La Presidente Casellati deve assolutamente delle spiegazioni. Non lo deve al Movimento 5 Stelle, non lo deve a me, ma lo deve all'intero popolo italiano che in questo momento sta soffrendo davvero a causa del coronavirus, ma a causa anche della crisi economica che si è generata. E non è possibile che queste persone pensino solamente ai loro interessi. Ragazzi, nei prossimi giorni vi aggiorneremo sugli sviluppi di quanto è successo e sicuramente chiederemo anche il vostro appoggio. Ricordate la manifestazione che abbiamo fatto qualche mese fa a Roma, mai più vitalizi. Tenetevi pronti perché secondo me è giunto il momento di scendere di nuovo in piazza.